Musica Scudetto 2000 agenti per il piano sicurezza Napoli blindata per i festeggiamenti del terzo scudetto degli azzurri previsti 90 marchi d'accesso e l'impiego massiccio di agenti Vigilanza speciale per i monumenti nodi, gli ultras salernitani al rinvio della gara Manifesti shock a Napoli, c'è un clima di odio Digos a Napoli indaga sui manifesti a testeggiù di Meloni, Piantedosi e La Russa Un clima di odio e tensione, adesso il consigliere regionale della Lega, Nappi Servono più controlli da parte delle forze dell'ordine Musei gratis, record Alman e Palazzo Reale Fine dei siti d'arte per il 25 aprile nella città di Napoli Il direttore del Palazzo Reale, Epifania Otto Channel, ammette numeri incredibili Il palazzo ormai è al centro dei percorsi di migliaia di stranieri Criminalità in aumento, l'SOS di Libera denunciate Nel Sannio c'è preoccupazione per gli ultimi episodi di criminalità Bombe carta contro attività commerciali, incendi di auto e furti Dura la condanna di Libera, denunciate e facciamo rete per proteggere gli imprenditori Avelino violenza giovanile, l'accusa del procuratore Giornata all'insegna della legalità in città Il capo degli inquirenti a Roma denuncia Vedo in città troppa indifferenza e rassegnazione E il questore Terrazzi assicura le risposte della polizia Ci sono state Negozi chiusi nelle feste ma sono polemiche inutili Ancora scontro a Salerno per la città che chiude le giorni di festa invece di accogliere i turisti I commercianti replicano alle accuse e chiusi solo alcuni esercizi commerciali che non lavorano con i turisti E questi titoli di oggi ben ritrovati con 8 Channel News In apertura sarà una Napoli blindata Quella che si prepara ai festeggiamenti per il terzo scudetto degli azzurri Previsti 90 varchi d'accesso in città e l'impiego di circa 2000 agenti Sentiamo Prefettura e Viminale sono al lavoro per definire il piano di sicurezza in vista della festa scudetto del Napoli Al di là della data del derby con la Salernitana Quel che è certo è che bisognerà garantire un adeguato sistema di controlli Per fare in modo che tutto proceda nel migliore dei modi La città sarà blindata Previsto l'impiego di almeno 2000 agenti delle forze dell'ordine Con 90 varchi cittadini per regolamentare i flussi pedonali che saranno ingenti Si lavora anche ad una vigilanza speciale per i monumenti Che dovranno essere salvaguardati da atti vandalici A lavoro la task force della prefettura partenopea in contatto con il ministro Matteo Piantedosi Prevista anche la chiusura del centro cittadino al traffico Mentre si attendono indicazioni sull'eventuale rinvio a domenica della partita contro la Salernitana Pressing sulla lega di Serie A da parte del sindaco Gaetano Manfredi Che ha sollecitato lo spostamento della gara per motivi di ordine pubblico Aperture in tal senso sono venute proprio dalla guida della lega Lorenzo Casini I dialoghi ci sono sempre, noi siamo in contatto con l'osservatorio nazionale del ministero dell'interno E con il ministero dell'interno Se ci saranno dei motivi di ordine pubblico per spostare la partita la lega si adeguerà Nel fine settimana si prospetta una concomitanza di eventi tra Comicon e la partita di campionato della Jebi Napoli La lega basket ha anticipato a sabato il match contro Pesaro Accogliendo la richiesta della società partenopea Le valutazioni ovviamente non saranno solo di carattere sportivo ma anche e soprattutto legate alla sicurezza e all'ordine pubblico E a Salerno monta la polemica per il possibile posticipo del derby Una scelta che secondo il tifo Granata penalizzerebbe il cavalluccio marino Notari Rispetto per Salerno e per la Salernitana È univoco il pensiero dei tifosi Granata In merito al possibile posticipo del derby del Maradona contro il Napoli per motivi di ordine pubblico Gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno affidato ad una nota il proprio pensiero Ribadendo la contrarietà Un pensiero condiviso dall'intera tifoseria Noi non possiamo pensare alle feste degli altri Noi dobbiamo pensare a noi stessi perché abbiamo comunque un campionato difficile Non abbiamo una salvezza matematica E per noi un giorno in più sarebbe sicuramente al nostro discapito Diciamo è una cosa che vuole fare dei laurenti per far trovare i festeggiamenti coordinati Non mi sembra una cosa normale e corretta Avrebbero 24 ore in meno per recuperare Visto che poi la prossima partita è importante con la Fiorentina E noi non abbiamo acquisito ancora nessun risultato positivo Nel senso che dobbiamo lottare ancora per la salvezza Un'ingiustizia perpetrata dalla Lega Calcio Che già ne ha fatti tanti di errori in questo campionato E non solo insomma sarebbe un ulteriore tassello negativo Sicuramente ad una stagione da dimenticare dal loro punto di vista Sarebbe anche una mancanza di rispetto nei confronti sia della società Ma soprattutto della tifoseria Salernità Noi non ci siamo quindi non c'è nessun ordine pubblico Sono solo loro che se riusciranno a festeggiare Ma spero di no e penso di no Quindi deve restare tutto così Rispetto per la città e per il club è stato chiesto anche dal sindaco Vincenzo Napoli Faremo dei passi ufficiali anche con il questore, con il prefetto e con quanti altri Per fare in modo che non si squilibri la misura del campionato E intanto a Napoli prosegue l'attività di contrasto contro i falsari Della festa Scudetto la Guardia di Finanza ha sequestrato Oltre 18.000 capi di abbigliamento contraffatti Con il logo della società di calcio parte europea E in alcuni casi di Emporio Armani Il blitz delle fiamme gialle scattato in un deposito di 200 metri quadrati a San Giuseppe Vesuviano Denunciato un cittadino marocchino che dovrà ora rispondere di ricettazione e contraffazione La merce sequestrata per un valore stimato di circa 800.000 euro sarebbe finita nei mercati rionali di Napoli E sulle bancarelle delle zone frequentate dai turisti E a Napoli, sempre a Napoli, la Digo si indaga sulle affissioni della Meloni e di La Russa A testa e giù, manifesti sciocco contro i vertici del governo Il primo anniversario del governo Meloni sul 25 aprile che commemora la liberazione dell'Italia dalla dittatura nazifascista Anziché unire il paese ha contribuito a creare ancora più caos Da nord a sud si sono susseguite manifestazioni di collettivi antifascisti A Napoli, gli attivisti del collettivo napoletano Iesopaz, ex OPG Prima di andare in corteo per la città in occasione della festa Hanno affisso manifesti con le foto capovolte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Del presidente del Senato, Ignazio Larussa E del ministro dell'interno, Piantedosi Il messaggio degli attivisti è tutto rivolto al governo Un clima di odio e tensione che si respira negli ultimi tempi, dichiara Severino Nappi È la riprova che esiste una frangia, per fortuna, molto piccola di persone Che intendono la diversità d'opinioni, il contrasto politico Non una platea di arricchimento nelle reciproche posizioni Per rivendicare una prospettiva di crescita Secondo la propria visione, secondo la propria idea di sviluppo democratico Ma invece in una logica che è davvero, per restare in tema Un tema veramente inquietante e soprattutto violento Ed è quello che noi dobbiamo contrastare con forza Mettere in campo strumenti che vanno dalla sicurezza del territorio Alli a grandi azioni per restituire serenità attraverso politiche per il lavoro Della formazione, dello sviluppo Una ricostruzione di un paese che ha vissuto una stagione complicata E che oggi deve essere unito in una prospettiva di crescita comune Una grande opportunità che non dobbiamo sprecare Gli accertamenti della Polizia di Stato hanno confermato che si è tolto la vita Il 19enne trovato senza vita ieri in una Fiat Panda Nell'area industriale di Caivano, nel Napoletano Accanto al cadavere, gli agenti del commissariato di Fratta Maggiore Giunti in via Vigiano dopo una segnalazione Hanno trovato un'arma, una pistola Con la quale il giovane si è sparato un colpo al torace Risultato letale, la conferma è giunta dalle analisi eseguite dalla scientifica Assalto ai musei che erano gratis per il 25 aprile Un bilancio da record al Man e a Palazzo Reale Simonetta Ieparello Napoli, regina del turismo, assalto ai musei gratis Per il giorno della liberazione Un vero e proprio record, quello registrato a Palazzo Reale Con oltre 9.000 presenze Piuttosto che al Man, con 7.000 turisti in visita L'iniziativa del Ministero ha siglato un importante successo Per la promozione della cultura in città Anche a Capodimonte i numeri sono eccezionali 4.442 i visitatori Ben 8.000 quelli a spasso nel bosco Intanto Palazzo Reale si conferma Tappa irrinunciabile del turismo internazionale Molto bene, noi continuiamo a vedere una crescita L'anno scorso è stato un ottimo anno Risultato migliore rispetto anche a tre covid Quest'anno i primi mesi ci dicono che la crescita è ancora costante Abbiamo avuto ieri, soltanto con un'apertura gratuita Per il 25 aprile Più di 9.000 visitatori Che è un numero che in un giorno non abbiamo mai raggiunto In tutto lo scorso anno, fino ad adesso Quindi è un record per noi E poi anche nel mese siamo oltre i 50.000 visitatori Quindi anche quello è un risultato mai raggiunto In tutto lo scorso anno che è stato ottimo Il palazzo poi si presta per sua natura Per vista la posizione La posizione ha fatto sulla piazza che è il simbolo della città Sul mare quindi è anche facilmente raggiungibile Ed è anche identificabile come simbolo della città In più anche lo spazio interno, il giardino che qui è una grande risorsa Nel complesso siamo tra il Teatro di San Carlo e la Biblioteca nazionale Quindi è proprio una cittadella, un cuore pulsante della città Che viene identificato come anche luogo di ritrovo E è bello che sia così Cora cronaca, i carabinieri del comando provinciale di Avellino Hanno eseguito due arresti nei confronti di due esponenti del clan Cava Sono accusati di estorsione ai danni di un imprenditore A cui avevano incendiato un escavatore Per costringerlo a fargli pagare la tangente Per continuare a lavorare Uno dei due arrestati è Bernardo Cava Nipote del boss Biaggio Considerato per decenni il capo In contrastato del clan camorristico del Vallo Lauro E nel Sannio c'è preoccupazione per gli ultimi episodi Di criminalità registrati Bombe carta contro attività commerciali Incendi di auto e furti Dura la condanna di Libera Vediamo Forze dell'ordine al lavoro nel Sannio Per dare un nome e un molto agli autori Degli ultimi episodi criminali Che hanno scosso l'intera provincia A partire dalla violenta rapina dell'altra notte ad Airola Dove marito e moglie sono stati picchiati da sei banditi Che avevano fatto irruzione nella loro casa A questo si aggiungono poi una serie di furti Che quotidianamente fanno alzare il livello di preoccupazione E gli attentati incendiari E le due bombe carta fatte Esplodere a Benevento il 5 aprile scorse A Montesarchio nella notte tra lunedì e martedì Ai danni di una sala giochi Episodi che devono far riflettere il monito di Libera Sono episodi allarmanti Ma sono episodi che vanno a sottolineare La spavalderia di chi li commette Cioè il classico atteggiamento di chi sa Che può fare Perché tanto nessuno dice niente Tanto nessuno denuncia E io non mi rivolgo a chi è vittima Perché chi è vittima è vittima E noi lo sappiamo Ci mancherebbe Ma è la società civile E a volte anche le istituzioni Non sono sempre in grado Di dare delle immediate risposte Bisogna fare rete tra associazioni e istituzioni Rimarca Martino Gli imprenditori devono essere aiutati Hanno bisogno di una collettività Hanno bisogno di una corralità E hanno bisogno di essere a conoscenza Di quelli che sono gli strumenti previsti dalla legge Nel momento in cui si denuncia Giornata all'insegna della legalità Da Velino Con due appuntamenti aperti alle scuole Uno alla caserma Berardi L'altro in questura L'allarme del procuratore capo Ai Roma Vedo in città Troppa indifferenza E rassegnazione Sentiamo Giornata all'insegna Della legalità Da Velino Con due appuntamenti aperti Alle scuole Alla caserma Berardi Un convegno Organizzato con la partecipazione Dei ragazzi Dell'Ipsia Matucci Con i vertici militari Il prefetto Spena E il procuratore capo Domenico Ai Roma A volte la legalità È un dato solo formale Cioè ci accontantiamo Della superficie Ma andiamo un po' al fondo Cioè interroghiamoci davvero Che cosa è giusto Perché questo credo Che sia la domanda Che si facciano In questo momento i ragazzi Ecco Chiediamoci Se è giusto Disinteressarci Quello che accade in città Se è giusto Non preoccuparci dell'altro Se è giusto Non chiedersi Per quale ragione Non denunciare Dei fatti che cadono in città Ecco chiediamoci Cosa è giusto E cosa è sbagliato Piuttosto che soltanto Un dato meramente formale Certamente C'è da sperare Da fare affidamento Nei giovani Però molto spesso Registro E alcuni casi giudiziali Me lo confermano Una certa inclinazione Alla rassegnazione Ecco più che la indifferenza In questura invece Si è svolta La sesta edizione Del concorso progetto Pretendiamo legalità Il questore Maurizio Terrazzi Rivendica le risposte Della polizia Dopo gli ultimi fatti Di cronaca In centro città In città ci sono stati Gli episodi Ci sono state però Anche delle risposte Immediate Da parte dei nostri uomini Ci riferiamo anche All'ultimo Presunto rapinatore Che è stato Presso dalla squadra Novi Della squadra volante E' importante Dare sempre dimostrazioni Di essere presenti Ascoltare le esigenze Di sicurezza Per ad operarsi in concreto Anche questo E ad operarsi in concreto Solo polemiche inutili La maggior parte Dei negozi Era aperto Nei giorni Del ponte Del 25 aprile Così al microfono Di 8 channel Si difendono Dalle accuse Gli esercenti Salernitani Che anzi Dicono di impegnarsi Al massimo Per rendere La città Sempre più turistica Vediamo Il ponte Del 25 aprile Ha portato Tanti visitatori Anche a Salerno Provenienti Dall'Italia E dall'estero La chiusura Di alcune attività Commerciali Ha innescato Però la polemica Tra amministrazione Comunale Ed esercenti Accusati Di non essere operativi A differenza Degli anni passati Sono però Tanti i negozi Del centro Che hanno deciso Di restare aperti Smorzando ogni attacco Noi abbiamo aperto Tutto il ponte E c'è stato movimento Se vogliamo La città turistica Dobbiamo offrire Anche un'apertura Sicuramente Sono un po' critiche In questo senso Non credo che Basti un negozio aperto Per dare un'immagine Diversa della città Sempre le festività Siamo sempre Sempre aperte Anche perché Se vogliamo rilanciare Un po' La città turistica Dobbiamo Sare aperti Un po' Tutti quanti Siamo aperti Tutti i giorni Sempre Tranne il 25 dicembre E il primo gennaio Salerno È di nuovo Insomma Meta turistica Quindi abbiamo avuto Tante tante persone Tanti visitatori C'è stata tantissima gente Abbiamo lavorato Abbastanza Ci sono stati Anche tantissimi turisti Anche il primo maggio Saremo aperti In questi giorni C'è stato Molto passeggio Conviene stare aperti Perché la strada È piena Ma anche la maggior parte Dei negozi Sono stati aperti Non è mancato Chi però dopo anni Di tentativi Ha deciso Di tenere ancora Le serrande abbassate Nei giorni festivi Noi abbiamo osservato Il calendario normale Solito nostro Cioè Il giorno di festa Chiusura Perché abbiamo Sperimentato In passato E la sperimentazione Non è andata bene Uno sciame sismico Si è verificato Stanotte Nell'area Dei campi Flegrei A partire Dalle 4.37 L'osservatorio Vesuviano Ha rilevato Quattro terremoti L'evento più significativo Di magnitudo 2.7 È stato registrato Alle 5.03 Con epicentro In via Antimiana Nel comune di Pozzuoli La scossa è stata avvertita Dalla popolazione Nei comuni Flegrei E nei quartieri Dell'area occidentale Di Napoli Bagnoli E Fuorigrotta Non sono stati segnalati Danni a persone O cose CGL Cisle Will Presentano La manifestazione Unitaria Che si interna A Napoli Il primo maggio Il tema Sarà la costituzione Ma non mancano Stilettate al governo Sul fronte lavoro Cristiano Vella Io credo che Provocare In modo così Palesia Senza consultare I sindacati Il primo maggio Convocare appunto Consiglio dei Ministri Che affronti il tema Del lavoro E che metta sul tavolo Dei provvedimenti Senza come sempre Come ci ha insegnato Rameloni Avere un compronto Preventivo con i sindacati Sia sbagliato Clima già caldo Per la manifestazione Unitaria Che i sindacati Hanno organizzato A Napoli Per il primo maggio In piazza a mercato Il tema è la costituzione Ma come detto Non c'è gradimento Per le politiche E le decisioni Fin qui messe in campo A livello centrale Sul fronte lavoro È un primo maggio Pieno di polemiche Un primo maggio Che si accompagna Per la prima volta Con un governo Che sui temi Del lavoro Deve ancora dimostrare Di voler fare Sul serio E ovviamente Siamo in un territorio In una regione Particolarmente Disastrati Da questo punto di vista In Campania C'è ovviamente Anche il tema Della sicurezza Sul lavoro Con diversi infortuni Che ancora Provocano danni E purtroppo Anche eventi tragici Il contrasto Alle diseguaglianze Prima fra tutte Vi è Quella di risolvere In modo deciso Quello di contrastare Gli incidenti Sul lavoro Quello della sicurezza Rimane un tema Di fondo A cui noi insistiamo Che sia necessario Istruire anche Una procura speciale Ancora nessuna Decisione presa Ma la riorganizzazione Del 118 È essenziale Per far fronte Alla carenza Di medici Nel sannio Così Il direttore generale Dell'asla di Benevento Volpe Riguardo all'ipotesi Di ambulanze Senza medico De Lucia Nessuna decisione È ancora stata assunta Ma il servizio Di emergenza Sul territorio Ha bisogno Di una riorganizzazione Il direttore generale Dell'asla di Benevento Gennaro Volpe Lascia aperta Ogni ipotesi Riguardo alle ambulanze Senza medico A bordo Di certo C'è che la carenza Di personale Continua ad incidere In modo sostanziale Sul servizio Di emergenza Stiamo studiando Una riorganizzazione L'emergenza Territoriale La stiamo studiando Veramente Per far sì Che il cittadino Possa avere Sempre quei servizi Che ha soffrito Questi anni Il nostro 118 È stato sempre Un fioro all'occhiello Praticamente Si fa in base Alle risorse Che si hanno Noi abbiamo fatto Abbiamo fatto Una serie di tentative Per quanto riguarda Il 118 Quindi sia come convenzionati Sia abbiamo strutturato Forse una delle prime Nelle prime asole A livello italiano Che ha fatto già il concorso Per quanto riguarda La dirigenza Medica Che deve andare A bordo Niente tagli Niente tagli sul numero Delle ambulanze Specifica il numero Uno Dell'azienda sanitaria Di Benevento Anzi un potenziamento Del servizio Ma la carenza Di personale esiste E riguardo Alle ambulanze Senza medico A bordo Volpe Apre ad una valutazione Positiva Un'organizzazione A livello italiano A livello regionale È già stata fatta E veramente Funziona E funziona bene In chiusura Torniamo a parlare Del polo logistico In Irpinia Anche la provincia Di Avellino In campo Per difendere L'opera strategica Per la Valle Uffita Vediamo Non possiamo Permetterci di perdere Il polo logistico Sarebbe compromesso Il senso stesso Dello sviluppo in Irpinia A parlare Il presidente Della provincia Di Avellino Rizieri Buonopane A margine Dell'approvazione Del bilancio In consiglio provinciale Necessario Che tutto il territorio Faccia massa critica È stato chiesto In consiglio provinciale Dal consigliere Di Sicilia Ma anche poi Da altri consiglieri La necessità Di convocare Un consiglio provinciale Ad hoc Quindi coinvolgendo I diversi livelli Istituzionali Credo opportuno Che si faccia Massa critica Quindi per portare Avanti un progetto Come è emerso Se dovesse venire meno L'idea Della piattaforma logistica Viene meno Proprio l'idea Della stazione Irpinia Sarebbe un danno Irreparabile Per la nostra provincia Poi il plauso Di Buonopane All'iniziativa Dei consiglieri regionali Organizzata per Dopodomani Venerdi 28 aprile Per provare A trovare una soluzione Condivisa Sul caos Che regna Nel riassetto Del settore rifiuti Ho appreso Di questa iniziativa A parte i consiglieri Regionali Ritengo molto utile Perché penso Parteciperà Alla stessa regione Quindi finalmente Si inizierà a parlare In termini concreti Della vicenda Di quale soluzione Sia la più praticabile E la più opportuna Per il nostro territorio L'ente che si occupa Di regolazione E programmazione È lato Però è di tutta evidenza Che la regione Dovrà anche rispondere Dello stato di attuazione Del ciclo integrato Dei rifiuti Per tutti gli ato Anche per la nostra provincia Quindi è parte Inevitabilmente interessata È tutto per questa edizione Di 8 Channel News Grazie regia Ad Aldo Fenizia Ora le previsioni del tempo Poi il TG Sport Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.